Mostro la vestibilità sul lato B ma non ci sono tutti quelli che possono essere i fastidi o gli stress dei jeans quindi non ho una mano rigida o ferma o fredda del classico jeans anche la modellistica con questa linea otticamente all'effetto push up se mi chino dato che la vita è regolare alta non mi si scopre l'intimo e davanti ho questa vita contenitiva perché ci sono tre dita più o meno di baschina che appiattisce il pancino e non fa uscire l'effetto delle maniglie dell'amore le taschine finte quelle grandi poi c'è questa piccolina e non ho bottoni che mi strizzano il pancino se mi siedo mi fanno uscire il rotolino non ho zip che magari nel tardo pomeriggio se mi gonfio mi lasciano il segno sulla pelle ha davvero la comodità di un leggings, di un pantalone da tuta come morbidezza ma la presenza di un jeans ma la presenza di un jeans